Peter, cosa è successo? Chi hai fatto? Niente, dovresti vedere quell'altro. Quell'altro, in questo caso è una gigantesca lucertola mutante. Ah, Gwen, tesoro, lo vuoi? Il cacao, Howard lo sta facendo. No, papà, non voglio il cacao. Insomma, ho appena compiuto i sette anni. Ok, è solo che mi ricordo che qualcuno l'altra settimana sognava di vivere in una casa di cioccolare. Sarebbe poco pratico. È molto ingrassante. Una casa di cioccolata. Scusa, papà. Figurati. È che... non posso bere il cacao adesso. Perché sto... cioè... è che ho mal di pancia. Vieni da vomitare. Non so, credo ci sia uno scatto di nervi. Continuo a piangere. È un momentaccio. Non ne parliamo, perché è brutto. Certo. Grazie, papà. Niente, niente. No. Calma, piccola pulce. Come? Come mi hai chiamato? Dai, rilassati. No. Sì? No. Lo so come funziona. Cioè? Tutti i giorni, per quanto mi ricordo, mio padre è uscito tutte le mattine con un distintivo sul petto e alla cintura la sua pistola. E tutti i giorni, per quanto mi ricordo, non sapevo se sarebbe tornato mai a casa sana e salvo. Ho capito. Ok. D'accordo. Io lo devo fermare, però. Devo fermarlo. Perché l'ho creato io. Come sarebbe? Gli ho dato un'equazione che ha reso tutto questo possibile. Una cosa su cui lavorava mio padre. In segreto. E adesso so perché lo teneva segreto. Il fatto è che è una mia responsabilità. E devo sistemare le cose. Andiamo via da qui. Dai, andiamocene via, dai. Solo per un minuto, si può? No. Sì? No. Sì? Sì? No. Sì? Se i miei genitori mi vedono uscire, mi uccidono. I tuoi non ti vedranno uscire. No.